salve a tutti carissimi amici di app video review bentornati in nostra compagnia oggi siamo a recensirvi questo oggetto by proporta un nostro partner ormai tutti sapete chi è proporta e tutti i vari accessori molto molto ben fatti che ci fornisce giornalmente questo è un accessorio direi alquanto fondamentale per chi usa l'iphone molto molto diciamo pesantemente durante la giornata infatti chi non riesce per lavoro eccetera eccetera ad arrivare a fine giornata con l'iphone questa è la una delle soluzioni molto molto gradite dagli utenti apple e dagli utenti che hanno acquistato questo oggettino su proporta dicevo è un oggetto che ci permette di ricaricare vedete è una custodia una normalissima custodia in materiale molto liscio al tatto materiale nero che si apre in questa maniera qui e come vedete qui abbiamo il caricatore dock quindi abbiamo un come se fosse un piccolo dock che ci permette di ricaricare il telefono e di usarlo normalmente questo oggettino questa custodia qui si ricarica via usb a un qualsiasi computer quindi molto molto semplice andiamo a vedere come si inserisce il nostro iphone quindi molto molto semplice l'inserimento e come avete sentito dal dal suono del mio iphone la batteria è andata in ricarica ora qui non si vede comunque la batteria è andata appunto in ricarica quindi si sta ricaricando quindi è un oggetto molto molto valido e ben fatto come vedete lo spessore non è nemmeno tanto grande la metto a confronto con un'altra custodia come vedete lo spessore non è tantissimo cambia solo qui c'è un pochino più di rilievo ma chiaramente è abbiamo anche la batteria all'interno di questo oggetto tutte le funzioni dell'iphone rimangono chiaramente libere pulite infatti come vedete il volume due speaker del volume sono liberi come il bilanciere del volume più e meno è lo sblocco della vibrazione microfono e tasto accensione quindi tutto tutto libero e bene agibile per quanto riguarda il nostro iphone quindi come detto caricatore portatile fatto a custodia veramente ben fatto by proporta come vedete questa è la confezione molto molto carina come sempre proporta leader nel settore delle custodie degli oggetti per aiutarci ad arrivare sempre al meglio con i nostri iphone eccetera eccetera per oggi è tutto ci sentiamo alla prossima video recensione grazie a tutti